Buonasera, benvenuti a questa puntata di Instant Book, idee e scritture per il futuro. Ospite con noi la simpaticissima Annalisa Rossi, che ha scuoiato un lopardo e l'ha messo sul tavolino. No, ricercatrice, ricercatrice anche Annalisa Rossi, docente a contratto all'università, ma guarda un po', noi tendiamo a non invitare gli strutturati, preferiamo i destrutturati, nonché importante animatrice culturale della provincia di Bari e non solo. Ora, Annalisa, noi raccontiamo un po' il profilo, diciamo le biografie tipo, partendo da quelli che sono i cervelli presenti nel nostro territorio, per raccontare un po' come si può vivere all'interno di questo mercato che è quello della cultura, se il mercato è. Raccontaci un po' le cose che fai. Da quale cominciamo? Cominciamo dalle ultime, cominciamo dall'università, cominciamo dal fatto che sei docente a contratto, in cosa e dove? Io sono docente a contratto sul quinquennale per la specialistica in comunicazione e multimedialità presso l'Università degli Studi di Bari, facoltà di scienza della formazione. Per il secondo anno di seguito mi hanno affidato l'incarico del corso di 20 ore relativo alle tecnologie per la comunicazione multimediale di archivi e biblioteche. Posso fare una domanda secca? Sì. Quanto è caduto il prestigio dell'università negli ultimi anni, dell'Università di Bari? Temo parecchio. Sotto i piedi. E non soltanto per le facoltà coinvolte negli scandali, giusto? No, perché poi la sensazione, anche avendo fatto un percorso universitario attraverso diversi livelli, avendo avuto anche la possibilità di percepire quello che dell'università nostra si recepisce fuori dalla nostra università. A me lo raccontano gli studenti che una volta laureati vanno su a sostenere dei colloqui di lavoro e quando non sentono che sono laureati a Bari dicono, soprattutto se sono ragazze carine. Gli scandali sono la punta dell'iceberg. Sì, chiaro lo sappiamo. Noi che ci stiamo dentro lo sappiamo. Questo non è bello. Ma noi due non siamo raccomandati. No, non saremo qui. Senti, la necessità di migliorare il livello dell'offerta formativa nell'università è sentita dagli studenti? Ritengo di sì, per una ragione. Nel confronto quotidiano, anche nel corso delle lezioni con gli studenti, si produce spesso uno schema che, osservato dall'esterno, non fa molto piacere. Cioè, lo studente che ti racconta di episodi non proprio positivi è quello che è ancora peggio. Lo studente che ti racconta al termine del suo corso di studi, ma ho trascorso in questo luogo 4-5 anni, ho la sensazione di non avere competenze. Certo. Io ho avuto ospite ieri Alessandro Lattarulo, che è un nostro collega, un sociologo della politica, e con lui commentavo questo dato offerto da un altro nostro collega, questo Francesco Maria Pezzulli, in fuga dal sud, ha scritto questo volume importante, dove traccia un profilo tragico del laureato meridionale. Del laureato meridionale che poi va su al nord, al nord Italia, ma spesso quella è una tappa intermedia, perché poi dal nord vanno altrove, quindi vanno a lavorare fuori. Chi non sa quanto è duro aver investito, quanto è stato faticoso aver investito in una formazione universitaria, per chi magari non è figlio di docente universitario, non è figlio di dirigente pubblico o privato o di imprenditore, quanto è doloroso lasciare anche gli affetti, si ferma magari al dato oggettivo, materiale, beh è giusto che poi si vada fuori, no, io non lo trovo più giusto. Nel 2011 non lo trovo più giusto. Detto questo, parliamo di cose più divertenti. Tu organizzi eventi, io devo ringraziarti personalmente perché tu sei stata la prima critica del mio romanzo, e sei stata la prima persona che me lo ha presentato in piazza Atturi. Tu hai letto poi 34 anche in maniera piuttosto precisa. Spero di averti portato fortuna. Assolutamente, in termini di vendite e di critiche positive, assolutamente sì, e anche in termini, diciamo, di costruzione di rapporti con il pubblico, che poi è quello che a me piace fare. Tu hai un'attività culturale molteplice, che vorrei, diciamo, raccontassi. Cominciamo dal fatto che, per esempio, adesso avete aperto uno sportello su Turi, che si occupa di flussi di popolazione, mi pare di capire. Sì, l'idea nasce da un'iniziativa di FILEF Puglia, che è la sezione pugliese regionale della Federazione Italiana per gli italiani nel mondo, detta molto in sintesi, e l'iniziativa prevede... Che sono tanti. Sono tanti. Solo in Argentina abbiamo un'altra Italia, 60 milioni. Sono proprio tanti. L'iniziativa prevede l'attivazione di un centro di documentazione, abbiamo pensato di chiamarlo così, relativo ai migranti, senza E, senza IN, di Puglia. L'obiettivo è quello... Ci sono già, in realtà, nel territorio regionale altre esperienze di questo genere. C'è una significativa nel Salento, un'altra a San Marco in Lamis, nella zona della Daunia. L'idea è quella, un po' presuntuosa, se vogliamo, ma le idee che poi producono di più, ritengo, che debbano esserlo quando nascono. L'idea è quella di mettere in piedi un centro su scala regionale, che sia capace di raccogliere e di funzionare da cassa di risonanza... Un contenitore della memoria dell'immigrante. Sì, non solo della memoria, ma anche come centro propulsore per la costruzione di una identità del migrante, che poi è nostra, è nostra come territorio di frontiera, è nostra perché lo siamo stati, è nostra perché lo siamo ancora, l'esperienza alle quali facevi riferimento tu, è nostra perché forse sarebbe bene smettere di esserlo. Sì, guarda, io che ho una sensibilità particolare verso i migranti tutti, come dicevi tu giustamente, citando poi gli antropologi, perché a loro dobbiamo questo taglio dell'AIM, dell'AE davanti alla parola migrante, che dà l'idea del vai e vieni anche. Infatti. Ti dico che serve, serve in Puglia anche perché sui migranti tutti si sono costruite delle retoriche che hanno prodotto, che hanno fatto le fortune di non pochi, ma non soltanto perché alcune iniziative sui migranti in realtà hanno favorito grosse organizzazioni, talvolta organizzazioni non governative, che io contesto molto l'uso del microcredito per esempio nei paesi di risviluppo, perché avendo lavorato nelle periferie dove il microcredito è razziato dai boss dei quartieri, so cosa significa. Basta acquistare pacchetti di microcredito per poi riprodurre le stesse logiche. È quello, è quello il punto, è proprio questo il punto. Nello stesso tempo penso che altre organizzazioni, altre associazioni, non abbiano costruito la memoria della emigrazione. Ora, io che frequento il tuo comune, Turi, così come altri comuni, nel Salento e nel Foggiano soprattutto, che si sono svuotati nel corso del tempo di popolazione giovane, una volta non molto qualificata, adesso invece sempre più qualificata, ciò che registro è che il racconto della memoria è un racconto che avviene per strada, nei bar, nelle camere del lavoro, nelle sedi sindacali, talvolta nelle sezioni di partito, ma è sempre più labile, perché stiamo perdendo anche i nonni, perché si assottiglia quella fascia di popolazione che ha vissuto l'immigrazione come padre. Perché abbiamo perso anche la capacità di raccontare, che è la capacità di fermarsi a riflettere su se stessi, sugli altri, sulle relazioni che ci collegano. Ritengo che questa sia una grande perdita, una perdita umana, prima ancora che culturale e quindi collettiva. Di qui bisognerebbe ricominciare. C'è, secondo te, e chiudiamo su questo argomento, una connessione tra la emigrazione meridionale, pugliese e lucana, diciamo, che è una forte, forte emigrazione, e questa, tutto sommato, debole immigrazione verso i nostri territori, verso la Puglia in particolar modo? Non so se si possa e si debba ragionare sulla capacità di attrazione del territorio, dei profili identitari che il territorio poi configura. Quella che i politici chiamano la vocazione che attira. Sì, non so se si debba ragionare su questo, perché ragionare su questo significa aprire tutto uno scenario di riflessione che inevitabilmente condurrebbe a misurare la capacità di costruire azioni efficaci di chi detiene le leve delle decisioni politiche, lato sensu, senza connotazioni. Volevo arrivare proprio a questo, perché io una risposta me la sono data, i due indicatori ad opero. Se una regione continua ad espellere mano d'opera, giovane, sempre più qualificata, nello stesso tempo non attira mano d'opera, e sto parlando della Puglia, è perché evidentemente i percorsi di sviluppo e le politiche messe in atto non funzionano per gli autoctoni e non funzionano per gli alloctoni. Questo è il punto. Siamo ancora fermi lì. Cos'altro? Tu organizzi presentazioni di libri, tu cerchi di rivitalizzare, diciamo, i territori della depressione culturale, chiamiamoli così. Sì, ci proviamo, dico ci proviamo e utilizzo il plurale perché in realtà nulla di quel pochissimo che riusciamo a fare sarebbe possibile se attorno a me non avessi la fortuna di avere numerosi amici che mi accompagnano e con i quali ci accompagniamo in queste avventure talora perigliose. E consentimi il termine obsoleto. No, no, ma ne parliamo nella seconda parte di questa puntata. Sì, al momento siamo, diciamo, che è la novità ultima che ci ha visti impegnati alcuni giorni fa nella inaugurazione della Biblioteca Comunale, la novità ultima è che con l'associazione Scrineum, che ho l'onore di presedere, abbiamo avuto in gestione, abbiamo chiesto, presentando un progetto, secondo le procedure standard, abbiamo ottenuto in gestione il servizio bibliotecario e intorno a questo servizio stiamo cercando di costruire un insieme di eventi e con un pacchetto culturale per la promozione culturale del territorio. Con la speranza che dal pacchetto culturale si arrivi anche a un pacchetto di lettori e di utenti. Assolutamente sì. Bene, chiudiamo questa prima parte di questa puntata con Annalisa Rossi, ci vediamo tra poco.